Ciao a tutti ragazzi, sono J.K.Bish e qui oggi per l'ennesima volta con me c'è Infernus. Ciao! Oggi faremo l'assalto alla Merry Weather, ovvero i mercenari. La base dei mercenari si trova in questo posto, vicino al porto. Qua. Qui c'è l'aeroporto, il porto, qua, e qui c'è la Merry Weather. Vai, cominciamo! Quando entreremo ci troveremo uno dietro la porta. Come avete visto, qui dentro è gigante. Strano, ah eh, mi sembrava. Perché nessuno della Merry Weather mi viene ad uccidere? Eccoli. Eccoli. Ne manca uno. Mmh, li abbiamo già uccisi tutti. Strano, eh? Comunque di uomini della Merry Weather ce ne sono pochissimi. Io adesso ho su un trucco la corsa veloce. Ma sto su per salto. E qui, come vedete, c'è un sottomarino gigante. Però è impossibile entrarci. Davanti, se guardate, ci sono delle porte. Ci sono delle porte, però... Che cavolo è? Sei incastrato. Ecco, qua ci sono delle porte, però è impossibile entrarci. Cioè, sono chiuse. Guarda. Adesso una porta normale si sarebbe già aperta. Ah bene, adesso scappiamo dalla polizia. Mi raccomando, lasciate i like e iscrivetevi al canale. Per l'entrata avrete quattro stelle. Come Forza Ancudo. Tanto che questa qui, questa base è molto più facile da annientare. Adesso ci sono gli elicotteri. Come che facciamo con la Sanchez? Fai così, la botti nell'acqua. Ma che la botti nell'acqua? Ecco tutta la polizia. Il brutto di scappare in moto dalla polizia è che loro hanno le macchine, ti vengono addosso e ti buttano giù. Adesso io mi sono... Cioè, c'era un vicolo cieco. Invece con la macchina hai la sicurezza maggiore. Però con la moto è più veloce. Ma perché non si rompe il filo spinato? È una bug del gioco. Ah, poi distruggia solo l'auto. Va a cagare. Una persona non sarebbe mai morta così. Va bene raga, ci vediamo al prossimo video che è la BMX Freestyle. Ciao! Ciao! Ciao!